Si definiscono gli esodati del Superbonus. Questa mattina sono stati i protagonisti di un sit-in davanti a Palazzo della Regione, un'associazione nazionale che raccoglie persone che hanno messo mano a tutte le proprie risorse, intraprendendo opere nelle loro abitazioni, lavori che dovevano essere incentivati con il Superbonus. La questione è molto controversa perché le modifiche apportate dai vari governi nel corso degli ultimi anni ha provocato problemi. Peraltro la situazione riguarda molti cittadini abruzzesi che chiedono a questo punto l'interessamento della Regione. Famiglie, committenti ed imprese che credendo in una legge dello Stato registrata in gazzetta ufficiale e che era volta a efficientare dal punto di vista energetico le abitazioni, nonché a sistemarle dal punto di vista sismico in un territorio dove questo problema e soprattutto qui ad esempio nell'Aquilano ci riguarda da vicino, si trovano a causa di una serie di modifiche normative ad avere situazioni di debiti, situazioni di case inagibili perché sono sfasciate, controversie di tipo legale tra committenti e imprese, l'impossibilità di cedere anche per coloro che hanno completato i lavori i crediti fiscali maturati. Sul Mona, la città in cui vivo, è un cantere a cielo aperto, condomini completamente impacchettati, persone e famiglie che non vedono la luce perché sono completamente ricoperte da impalcature. Di questo non sono responsabili i capi di famiglia che hanno deciso di accettare la proposta di un amministratore, non è colpa dell'azienda che invece ha anticipato tutti i lavori fino ad arrivare a un indebitamento importante, addirittura al fallimento e che si sono dovuti fermare perché contratti in regola che permettevano la cessione del credito sono stati fermi, congelati. Quindi di questo noi siamo soltanto delle vittime, siamo la regione perché speriamo che possa in questo senso aiutarci.